carissimi fratelli e sorelle gioia e pace in abbondanza a tutti voi da parte del signore nostro gesù cristo nostro signore salvatore da cui proviene ogni grazia lui è la grazia di dio che dio riversato su di noi e apparsa la grazia di dio la vita si è resa visibile in gesù cristo si è manifestata la gloria di dio padre e in lui ogni opera ha avuto il suo compimento in lui è stato manifestato la volontà di dio è stata manifestata questa volontà salvifica del signore e sigillata nel suo sangue sparsa sulla croce e nessun evento della storia lo può annullare gli uomini si possono anche affannare possono complottare possono perseguitare ma sappiamo dalla storia come questo non porta a successo le porte dell'inveri dice gesù a pietro non brevarranno contro di essa e a te darò le chiave del regno dei cieli cioè le chiave della salvezza attraverso l'annuncio del vangelo attraverso la vita nello spirito santo la chiesa procede attraverso le prove gli ostacoli le persecuzioni e anche se in certi momenti sembra soccompere come dice gesù le porte dell'inveri non brevarranno contro di essa e questa è la fede fratelli che il signore gesù ci ha ispirato ma anche la certezza che tutti noi dobbiamo nutrire abbiamo ricordate più volte come anche in questi tempi difficili anche in mezzo a proposte di leggi che noi abbiamo in italia che sempre più leggi persecutorie che leggi disciplinari o che vogliono portare un progresso della società sembra più se no piuttosto leggi di dominio di alcune culture bene il cristiano deve guardare in alto guarderanno a colui che hanno trafitto come mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo e quindi il cristiano vive di profezia la parola di dio è annuncio di realtà la parola di dio è la vita e allora noi seguiamo sempre fratelli queste indicazioni che il vangelo ci propone e ci dà la grazia di perseverare e di giungere alla meta della nostra esistenza nel vangelo di oggi gesù dice ai suoi discepoli chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce ogni giorno e mi segua perché chi vuole salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita o che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni in verità io vi dico vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno e nella prima lettura di oggi fratelli dal profeta naum abbiamo la visione che il profeta riceve da dio della distruzione della città di ninime capitale della siria e del popolo baleapironese in seguito questi avevano oppresso più riprese il popolo ebreo avevano deportato in gran parte ma dio fa giustizia al momento perché tutte quelle vessazioni si ritorcano verso gli occupanti versi persecutori il male abitualmente ricade su chi lo fa e queste parole quindi di gesù di prendere la propria croce di seguirlo non è un invito a soffrire è un invito a liberarsi da ciò che ci opprime perché la prima oppressione dell'uomo viene dalla corruzione del peccato dal disordine del peccato dalla malizia del peccato questo era il primo passo per seguire gesù cristo perché lui è la verità lui la vita divina lui il figlio di dio e lui dio si manifesta quindi chi vuole seguirlo deve depurre tutto ciò che è contrario a dio infatti abbiamo visto più volte come il peccato lo dobbiamo concepire non come semplice trasgressione di qualche precetto di qualche comandamento ma come una realtà che corrompe l'uomo che devia la sua vita lo porta a seguire un dio falso ma lo porta a perseguire anche dei beni fasulli lo vediamo tantissimo ai nostri giorni quando la gente arriva al successo alla gloria al potere alla ricchezza eccetera poi a un certo punto finisce tutto e a che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima propria dice gesù quindi il peccato lo dobbiamo guardare non come semplice trasgressione di una regoletta la legge è fatta per far dice san paro per rivelare l'esistenza del peccato allora l'uomo scopre che è solo mentre è fatto per amare scopre che è egoista mentre è fatto per far dono della sua vita e lo vediamo nell'ambito matrimoniale chi arriva a saper far dono della propria vita scopre dei beni che altri non conosceranno mai perché perché l'uomo ha uno spirito e lo spirito per natura sua tende a comunicarsi ad arricchire ad accogliere a far comunione ora dove c'è peccato non c'è comunione in un matrimonio dove c'è peccato non si può fare comunione ci possono essere dei gesti ma fine a se stessi non per raggiungere la comunione così il peccato nel riguardo di dio e questa esclusione di dio questa nostra incapacità di partecipare alle ricchezze della sua vita alla bellezza del suo amore alla potenza del suo spirito e quel peccato allora dice gesù chi vuol venire dietro a me perché vuole accogliere la mia vita nella propria rinunci a quello che ritiene proprio perché l'uomo ha messo se stesso al posto di dio col peccato di adama ed eva e questo peccato si tramanda si trascina si ripete si rinnova bene l'uomo rinnega se stesso in che modo con la croce la croce è l'accettazione della volontà di dio è nel prendere ogni cosa dalle sue mani perché dio non deve essere invocato in qualche situazione difficile ma ci deve pervadere l'anima non deve fare comunione con dio io devo affrontare questa giornata in comunione con lui ogni tanto personalmente mi ricordo che mi sto affannando per cose come se dipendesse tutto da me e allora dico signore perdonami perché non ti ho fatto entrare in questa situazione ti ho escluso ma comunque se non ho fatto dei peccati nel senso che ho fatto delle cose sbagliate ho fatto del male no il mio male è vivere come se dio non ci fosse allora io mi preoccupo della situazione mi allarmo e via dicendo questa è la croce no ogni cosa dalle mani del signore anche le difficoltà delle mani del signore c'hai un ostacolo sul tuo cammino prendilo dalle mani del signore hai una malattia prendila dalle mani del signore come se lui te la stesse dando dio non vuole il tuo male ma io sottometto alla gloria di dio tutto quello che mi si presenta la vita perché la mia gioia è fare la sua volontà come dice il salmista parlando il messia che io vengo dio a fare la tua volontà con ciò stessa aggiungere la letra di ebrei gesù abolisce i vecchi sacrifici per stabilire una nuova perché il vero culto che noi diamo a dio il compimento della sua volontà l'accettazione della sua volontà ma accettazione però fratelli con amore non passività non rassegnazione no dio non vuole la nostra rassegnazione dio vuole il nostro amore che mi offre sacrifici di lode questo mi onora dice il salmista e quindi noi dobbiamo levare a dio questa nota in ogni cosa a farlo entrare nella nostra vita riconosce che la giornata di oggi è sua la gara che respiriamo la riceviamo da lui la luce del sole la riceviamo da lui ogni cosa la prendiamo da lui dio vuole essere noi tutto in tutti ma nella comunione dell'amore e lui quindi non sopprime la nostra libertà ma la esalta esalta la nostra libertà facendoti in tutto simile a lui padre noi ti ringraziamo nel figlio tuo Gesù Cristo per mezzo suo c'è insegnato la strada della salvezza quella della croce dove l'uomo non mette se stesso al tuo posto ma mettete al primo posto al di sopra di ogni altra realtà al di sopra anche della propria stessa vita e questa è la nostra croce l'accettazione della tua volontà con amore ti ringraziamo che questo spirito ha guidato il figlio tuo Gesù Cristo e questo spirito ha guidato tutti i santi che non hanno cercato se stessi ma la tua volontà si sono abbandonati al tuo amore tu hai operato con potenza hai operato con grande potenza nella loro vita oggi opera con potenza in questa chiesa che si trova in molte parti di questo mondo in difficoltà rivela nella potenza della croce la sapienza della croce davanti a cui gli inferi tremono i demoni fuggono perché nella croce c'è tutta la tua sapienza tutta la tua potenza tutta la tua grazia a gesù la loda e la gloria per tutti i secoli dei secoli amen a te vergine santissima ci rivolgiamo a Renisi questa giornata nell'ambito anche della novella che precede la fe la solennità dell'assunzione tu hai accolto ogni cosa delle mani del signore allora hai benedetto sempre ti sei sottoposto alla sua volontà anche quando il figlio tuo Gesù Cristo è stato sacrificato sulla croce e l'amore ci ti glorifica quell'amore che hai accolto dal padre tu lo riversi verso ciascuno di noi figli tuoi avvolgici in quest'amore e conduci tutti noi al figlio tuo Gesù rinnovate nella mente del cuore per essere una cosa sola con lui a cui salga oggi la nostra loda e la nostra riconoscenza per i secoli eterni amen e la sapienza della croce fratelli ci accompagni secondo le parole di Gesù e di assenza e illumini tutta la nostra vita e l'archesca di potenza di spirito santo amen